Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca ancora un arresto per droga in manetta una 45enne sorpreso con dello stupefacente nascosto nelle tasche dei pantaloni. Nelle tasche dei pantaloni aveva nascosto stecche di hashish e diverse dosi di cocaina. A fermarlo ed arrestarlo la polizia di Stato. Gli operatori delle volanti hanno fermato all'auto dell'uomo un 45enne a retino incensurato nel corso di un'attività di prevenzione e controllo del territorio. Alla vista degli agenti è però subito apparso estremamente agitato, così è scattata la perquisizione. Dalle tasche è saltata fuori la droga, due stecchi in celofan trasparente contenente hashish con sovraimpresso il marchio di una mela, probabilmente utilizzato dai trafficanti per identificare la partita, e otto involucri in bustine di celofan termosaldate contenenti cocaina. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione dell'uomo, dove è stato scoperto altro stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione. In totale sono stati sequestrati 816 grammi di hashish, 77 di marijuana e 6,39 grammi di cocaina. Per il 45enne sono scattate le manette e è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il GIP ha convalidato l'arresto applicando la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Un furto invece si sarebbe consumato a Giovi in una villetta schiera martedì sera. I ladri hanno fatto visita nell'altardo pomeriggio in un'abitazione, mettendo a soccuadro tutto ma non trovando nulla di prezioso alle spalle. Si sono lasciati alcuni danni, come quello alla finestrone forzato per entrare nei mesi scorsi. Altri colpi nella stessa zona, uno in particolare. In un caso i ladri hanno disattivato l'allarme immergendolo in un secchio di acqua. Questa mattina una nuova seduta del Consiglio Comunale ad Arezzo, che è proseguita per gran parte della giornata. L'assise si è aperta accogliendo i bambini della scuola primaria di Rigutino. E proprio in tema di scuola, in Consiglio Comunale è arrivato anche il regolamento per l'accesso ai servizi per l'infanzia, che continua a far discutere. È veramente una scelta allucinante, in quanto comunque non si può obbligare i nonni a dover gestire sempre i nipoti in una fascia oraria di almeno 9-10 ore, dove comunque anche i nonni hanno degli impegni. E non solo degli impegni, ma il discorso del servizio della scuola, che quindi può essere un asilo nido o anche una materna, certo non si può paragonare al fatto che i nonni possano guardare i nipoti, perché pedagogicamente parlando, ovviamente l'insegnante non può essere sostituito da una figura di un nonno. Fa discutere, e non poco, l'idea dell'amministrazione comunale di Arezzo di inserire i nonni tra i criteri per accedere ai servizi per l'infanzia. Sembra che danno per scontato questo, che avendoci i nonni alle spalle, allora puoi rimanere in una graduatoria differente da chi invece non ha i nonni, quando in realtà non è in questo modo. Avere o no i nonni a disposizione potrebbe dunque fare la differenza, ma il vice sindaco di Arezzo è assessore alle politiche sociali, precisa. La domanda è questa, se un genitore ha un figlio piccolo e un suo genitore malato o disabile, quel peso di cura è lo stesso di un altro genitore che ha un figlio piccolo e un nonno vispo? No. Quindi siccome noi non possiamo pensare che i nonni siano soltanto un aiuto, ma debbono essere aiutati, entra prepotentemente la categoria dei nonni che sono un valore, ma che hanno diritto ad essere aiutati, e che quindi un genitore ha il dovere e il diritto di prendersi cura del suo figliolo, ma anche del suo babbo e della sua mamma. Di contro le famiglie, ma soprattutto i nonni, non ci stanno ad essere considerati per forza sostituti di un welfare che secondo loro è deficitario e la questione non si esaurisce solo al criterio dei nonni. Mi sembra veramente una cosa fuori dal mondo, perché costringere i nonni a occuparsi dei genitori, perché altrimenti dei figli, dei nipoti, perché se no cambiano le regole per gli asili nido, per le graduatorie mi sembra veramente una cosa fuori... è anche un modo per far sì che queste persone, cioè che i nonni soprattutto, siano obbligati, tra virgolette, a fare le veci di un ente pubblico come l'asilo per i bambini. Tra le interrogazioni anche due sul destino dell'immobile di Via Filzi, che nel progetto del Comune di Arezzo dovrebbe diventare la nuova caserma della Polizia Municipale. La prima da parte di Marco Donati di Scelguarezzo e la seconda da parte di Alessandro Caneschi del Partito Democratico. Secondo il Sindaco Ghinelli, il percorso che si è rallentato per cause esterne dovrebbe terminare comunque nell'arco di circa un anno. E in Consiglio Comunale si è parlato anche di case popolari con due interrogazioni sullo stato di manutenzione degli edifici ERP, la prima di Michele Menchetti del Movimento 5 Stelle e poi Alessandro Caneschi e Giovanni Donati della PD. Ad intervenire sull'emergenza a casa è stato anche il Sunia che ha lanciato un vero e proprio grido d'allarme. In Toscana le domande in evase di case popolari riguardano 17.607 persone, mentre in un anno ne vengono assegnate in media poco meno di mille. Per assorbirle tutte occorrebbero 17,6 anni. Ad Arezzo, in assenza di nuove domande, ne sarebbero sufficienti 8. E la segretaria del Sunia CGL Stefania Teoni ha sottolineare nuovamente la gravità dell'emergenza a casa. Il livello di non manutenzione è chiaro a tutti, ha dichiarato, basta un'occhiata esterna ai palazzi, ma questo non è l'unico problema. Gli alloggi assegnati rispetto alle domande accolte sono solo il 6% in Toscana, mentre Arezzo si colloca meglio all'11,6%. Un recente studio di nomismo elaborato per CISPEL Toscana ricorda che nella regione ci sono 49.924 alloggi regolarmente assegnati per l'89,5%. Gli altri sono da assegnare perché mancano i finanziamenti per renderli abitabili quando non sono occupati abusivamente. La conclusione è che il mondo delle case popolari rischia di collassare in pochi anni, compromettendo quel servizio pubblico che il sistema ERP è chiamato a garantire. Sull'emergenza casa prosegue si è scatenato uno scontro politico sul quale il Sunia non intende intromettersi. Al di là delle diversità, rileviamo che alle priorità occorra dare le gambe con un progetto nazionale a lungo termine con finanziamenti statali che accompagnino il progetto, compreso un impegno più forte da parte della regione. Se si concorda che la casa è una priorità, conclude Teoni, occorre uscire dalla propria appartenenza per provare a sbloccare una situazione che sta precipitando. Ancora politica, adesso è ufficiale. Il via libera ha la possibilità del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni, compresi tra i 5 e i 15 mila. Cade poi ogni limite per quello sotto i 5 mila. A stabilirlo il decreto regge è approvato oggi dal Consiglio dei Ministri dopo lo slittamento del 16 gennaio scorso. Il provvedimento prevede inoltre il voto nelle date dell'8 e il 9 giugno 2024. Ci sarà dunque un accorpamento con le elezioni europee e saranno 26 i comuni in provincia di Arezzo che andranno al voto. A Tregozzano invece proseguono i lavori per porre rimedio a lavoraggine che si è fermata sotto il manto stradale, in una strada vicinale ad uso pubblico. Anche oggi la personale e i mezzi di nuove acque al lavoro hanno allestito il cantiere che durerà alcuni giorni per sistemare la bolla sotterranea che si è formata a causa dell'azione erosiva dell'acqua che sarebbe fuoriuscita da una conduttura fognaria rotta. Grazie all'escavatore il buco è stato allargato rilevando l'ampiezza della camera che si trova sotto la strada, lunga circa 10 metri, profonda 3 e larga 2. Le famiglie isolate in tutto sé continuano però a reclamare una soluzione migliore del passaggio pedonale che è stato creato, una soluzione che si renderebbe necessaria soprattutto in caso di transito di un mezzo di emergenza. E proprio alla 118 è in fase di sperimentazione uno strumento salvavita in grado di fare una prima diagnosi in caso di ictus o trauma cranico. Visto che si tratta di patologie tempo dipendenti tutto il tempo che riusciamo a guadagnare è tempo a favore della prognosi del paziente. Si chiama test ed è un casco che può salvare la vita uno strumento sperimentato adesso dai 118 dell'Asra Toscana Sud-Est per una prima diagnosi del trauma cranico. La macchina è uno strumento in più che si pone nel mezzo diciamo tra la valutazione del paziente e l'esame TAC e è uno strumento di screening. Lo strumento individua lesioni ed emorragie cerebrali spontanee o da trauma nella fase di primo soccorso. Il discriminante è quello di poter capire fin dal territorio non solo dalla clinica del paziente ma anche con un dato diciamo oggettivabile se il trauma cranico, il problema cerebrale di un determinato paziente possa essere gestito in un ospedale piuttosto che in un altro. Lo studio è iniziato in via sperimentale ad Arezzo ed adesso sarà esteso anche a Grosseto e Siena. È stato già approvato dal nostro comitato etico noi abbiamo fatto 25 casi ma per poter sostanziare quella che è la tesi di questo progetto abbiamo la necessità di avere almeno un centinaio di casi. La tecnologia basata sull'uso di campi elettromagnetici a bassissima potenza è facilmente trasportabile in ambulanza. La testa del paziente viene posizionato nell'incavo che vedete il paziente deve rimanere fermo per circa 4 minuti per quanto riesce non emette rumori quindi è totalmente silenzioso lo possiamo fare pet side dà un risultato molto semplice Già i primi studi ci fanno ipotizzare che possa avere altri sviluppi specialmente nel campo appunto dell'ictus ischemico piuttosto che di altri eventi di tipo acuto cerebrale. Ancora sanità in Toscana si va verso l'avvio della sperimentazione del servizio dello psicologo di base ovvero un professionista che accanto al medico di famiglia offre assistenza psicologica primaria ed eventualmente indirizza verso uno specialista L'attivazione del percorso legislativo e operativo è partita a seguito di due delibere portate in giunta dall'assessore al diritto alla salute Bezzini La prima contiene il regolamento mentre la seconda dà già in carico alle Asla di procedere alla realizzazione di un progetto di almeno 18 mesi per l'avvio in fase sperimentale di questo servizio Dal primo alla 30 aprile invece torna il pediatra il sabato mattina in Casentino in Valtiberina un servizio richiesto dall'associazione Cuore di Bimbo e Mauro Grifoni Forever che l'Asla ha scelto di sostenere nel periodo di picco influenzale Oltre alla presenza dei pediatri di libera scelta nei due territori l'Asla ha deciso di estendere il servizio di assistenza territoriale anche nel prefestivo Allo stesso tempo l'azienda sanitaria sta lavorando per rafforzare la rete dei pediatri aziendali per migliorare la presa in carico dei pazienti tra ospedale e territorio Voltiamo adesso pagina Il Comune di Arezzo offre un nuovo servizio ai cittadini destinato ad accrescere le competenze e l'inclusione digitale Vediamo di cosa si tratta Noi non siamo nativi digitali e quindi dobbiamo imparare e non tutti hanno la capacità, il tempo per poter imparare questo approccio nuovo verso questo mondo nuovo e allora dobbiamo sostenerli Si chiama Arpenza Digitale un nuovo servizio dedicato ai cittadini di Arezzo destinato ad accrescere le loro competenze e l'inclusione digitale ovvero una guida all'uso dei servizi online attiva presso lo sportello unico di Piazza Fanfani Una postazione appositamente creata per dare assistenza al cittadino che intende percorrere questo cammino della transizione digitale quindi rendersi indipendente dalla necessità di dover venire allo sportello unico per chiedere un certificato, fare un pagamento e fare tutto quello che normalmente si fa qui Lo può fare tranquillamente da casa Non tutti sono in grado di imparare al volo come si fa e quindi qui mettiamo a disposizione una postazione con del personale che si dedica di volta in volta ad un cittadino per dargli tutte le istruzioni necessarie per renderlo indipendente sia dalla presenza qui sia dall'assistenza che gli viene da taggo in momento Attualmente in Italia solo il 46% della popolazione è in possesso delle competenze digitali di base a fronte del 54% della media europea Qui ad accoglierlo troveranno i facilitatori che sono persone del Comune e della Fraternità dei Laici che daranno tutto il loro supporto per poter aiutare il cittadino a districarsi tra i tanti servizi e le tante offerte che offre la rete Il progetto gestito dalla Fraternità dei Laici è finanziato con fondi PNRR Torniamo adesso a parlare di scuola al Liceo Giovanni da San Giovanni dal prossimo anno arriva il Liceo Made in Italy Sarà attivata dal prossimo anno scolastico una prima classe del Liceo Made in Italy Liceo Giovanni da San Giovanni un indirizzo che ha delle caratteristiche ben precise Qui si tratta di materie di indirizzo forti nell'ambito giuridico, economico dell'economia politica, nell'ambito della finanza, del marketing per quello che riguarda le imprese e le eccellenze nel settore del Made in Italy Il biegno è caratterizzato dalle scienze umane, le scienze matematiche curate in ambito STEM Fa all'ingresso la storia dell'arte perché l'arte, il Made in Italy e io direi il Made in Tuscany, visto il nostro territorio ma anche le due lingue a livello B1 e B2 e il grosso delle materie giuridico-economiche Il triennio dovrà essere precisato però è già chiaro che si prevede un rafforzamento del PCTO con le aziende, le medie e piccole imprese nel settore del Made in Italy tanto che ad esempio nel triennio precisa anche la possibilità di attivare percorsi nell'ambito dell'apprendistato a scuola con le imprese quindi si tratta di un liceo fortemente innovativo I genitori e le famiglie hanno già chiesto informazioni e come farete orientamento? Si stanno chiedendo almeno informazioni quindi visto che le iscrizioni termineranno il 10 febbraio faremo due open day sabato 27 gennaio dalle 15 alle 17 presso licei e anche sabato 3 febbraio 15-17 poi se i genitori avessero esigenza di altri momenti ci possono contattare telefonicamente Una marcia per la pace lungo le vie della città di Arezzo l'evento organizzato dalla rete Aretina Pace Disarmo in programma sabato prossimo 27 gennaio con partenza alle 18.30 da Piazza Sai Jacopo è trovato l'adesione di oltre 20 organizzazioni della società civile Aretina e di rappresentanti delle istituzioni che hanno accolto l'evento l'invito ad unirsi per lanciare un comune messaggio contro ogni forma di guerra e violenza Abbiamo speranza, crediamo nella pace il titolo della manifestazione che si colloca simbolicamente nel giorno della memoria Genitori fortunati, vivere da credenti il coming out dei figli invece è il titolo del libro che sarà presentato il prossimo 31 gennaio alle 21 presso il seminario Vescovile di Arezzo un testo che raccoglie diverse testimonianze di madri, padri, credenti con figli che hanno fatto coming out Un altro momento formativo sempre organizzato dalla Diocesi è quello in programma per venerdì 26 gennaio alle 10 sempre presso il seminario Vescovile rivolto a sacerdoti e diaconi della Diocesi dedicato al Laudate Deum E adesso apriamo la pagina dello sport questa mattina in apertura del Consiglio Comunale è stato ricevuto in aula il team Rossi 4x4 vincitore di una categoria dell'Africa Eco Race E chiamo con la loro vettura sperimentale una Nissan anche loro fedeli amici dell'Africa Eco Race per il team Rossi 4x4 Stefano Rossi e Jacopo Casini Una settimana fa la bandiera tricolore sventolava la grossa di Dakar al termine della gara adesso il team Rossi 4x4 è stato ricevuto in aula dal Consiglio Comunale per la consegna di una targa celebrativa Devo dire molto entusiasmo è stato veramente gratificante essere nel proprio comune e ricevere poi anche una targa di riconoscimento è per noi motivo di orgoglio Gli aretini Stefano Rossi e Jacopo Casini non solo hanno raggiunto il traguardo dell'Africa Eco Race ma sono arrivati al primo posto nella speciale categoria experimental per aver gareggiato il volante di una Nissan ad alimentazione ibrida a benzina e idrogeno è un sistema che ci proietta un po' nel futuro e spero che da questa anche nostra esperienza ne vengano fuori delle innovazioni continue che possono contribuire a quello che sarà il futuro diciamo un pochino più sostenibile anche se il nostro è un mezzo che comunque va a benzina questo additivo ci permette di ridurre le emissioni inquinanti Sono state 12 tappe per 6.000 km di gara per una delle manifestazioni motoristiche più affascinanti ed impegnative del panorama mondiale sui tracciati della storica Parigi-Dakar è un'avventura impegnativa e dal lato fisico sciocca qualunque condizione fisica perché noi si viaggia da oltre 43-47 gradi esterni ne abbiamo quasi 60 in abitacolo è una battuta che noi facciamo spesso di ricordarsi a vicenda di imporsi di bere per non disidratarsi io pensavo di accendere l'aria condizionata ecco non abbiamo finestrini c'è una bocchetta d'aria nel tetto sono condizioni proibitive a cui noi però andiamo con il sorriso e ci piace farlo perché è il nostro sport la gara è veramente tosta giorno dopo giorno nuove sfide tante difficoltà più che altro a livello fisico e mentale da comunque dover gestire sempre al miglior modo possibile prima gara della 2024 per gli esordienti della Chimera Nuoto i più giovani agonisti della società a retina nati tra il 2011 e il 2015 sono scesi in basca a Colle Valdelsa nella prova invernale valida per conseguire tempi per la qualificazione ai prossimi campionati regionali e hanno vissuto una positiva occasione di confronto con coetanei di altre società delle province di Siena e Firenze i 32 atleti della Chimera Nuoto hanno ben figurato con positivi piazzamenti tra cui spiccano 4 primi posti 5 secondi posti e 6 terzi posti questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per l'attenzione Grazie a tutti.